la scorta di birra, dopo questa cassa e l'altra cassa, c'è arrivata una sola cassa ehi, ehi, a tutte le mità, ehi, c'è la porta di birra, ehi, corre birra, tutta birra, tutte le unità ehi, amanti della DAV, qualcuno in questo bar hava la DAV www. binder.com.info Grazie a tutti Grazie a tutti